Io credo che ci sia una sola cosa da fare, scoprire il compito per il quale siamo nati e portarlo a termine il meglio possibile, ma con tutte le nostre forze, senza complicarsi l'esistenza e senza pensare che ci sia qualcosa di divino nella nostra natura animale. Solo così avremo l'impressione che stiamo facendo qualcosa di costruttivo. La libertà, la decisione, la volontà e compagnia bella sono chimere. Pensiamo di poter produrre il miele senza condividere il destino delle api, ma anche noi siamo soltanto povere api, destinate a portare a termine il proprio compito per poi morire. Io credo che ci sia una sola cosa da fare, scoprire il compito per il quale siamo nati e portarlo a termine il meglio possibile, ma con tutte le nostre forze, senza complicarsi l'esistenza e senza pensare che ci sia qualcosa di divino nella nostra natura animale. Solo così avremo l'impressione che stiamo facendo qualcosa di costruttivo. la libertà, la decisione, la volontà e compagnia bella sono solo chimere. Pensiamo di poter produrre il miele senza condividere il destino delle api, ma anche noi siamo soltanto povere api, destinate a portare a termine il proprio compito per poi morire. Per poi morire. Per poi morire. Per poi morire. Grazie a tutti